Ragazzi Natale, e questo è il nostro modo per farvi gli auguri. Ma Anna, potremmo fare in modo che loro si sentano un po' più il loro agio? Ah, io so come. Ragazzi, buon Natale! Buon Natale! E questo è tutto per voi, ve lo teniamo! Sì, ma Anna, come potremmo fare in modo che loro si sentissero un po' più il nostro? E questo è il nostro modo per farvi sentire la vaffanculo. Ragazzi, è Natale! Va bello! Tocca a me! Ragazzi, è Natale! E questo è il nostro modo per farvi gli auguri. Ma Anna, è Natale! Ma Anna, è Natale! Devi dire... Ma basta!